Allora, diciamo, lasciamo come sempre il pezzo forte alla fine, quindi ti chiederei di fare un'analisi su Stellantis. Ieri volevamo fare il nostro solito sondaggio, ma non l'abbiamo preparato, ma non abbiamo spinto invio come nelle migliori tradizioni. Allora, il grafico di Stellantis, soprattutto quello annuale, non è sicuramente bellissimo a vedersi, ma sembra che abbia trovato un pochettino un suo floor, un suo limite minimo. Per cui ti vorrei chiedere, è il momento finalmente di andare long, oppure bisogna ancora aspettare, oppure impostarsi short? Allora, shortare adesso sinceramente potrebbe essere tardi, perché il titolo è sceso veramente tanto e oltretutto non dimentichiamoci che oggi parliamo come se ci avessero trasportato in un altro pianeta, però il 26 di marzo Stellantis faceva nuovo massimo storico a 27.35. Semmai l'aspetto incredibile di questa vicenda, anche se ci sono delle spiegazioni, è che nel frattempo il 13 di agosto si è andata a fare un minimo di periodo a 13,692, quindi Stellantis incredibilmente si è come dimezzata in pochi mesi. C'è però, come dicevo, una spiegazione a tutto questo, ed è dettata dalla comunicazione della società. La società si è avvalsa rispettando, come dico sempre, le normative vigenti, di non comunicare il dato sull'utile netto relativo al primo trimestre. Ha comunicato altri dati, fra cui i ricavi, peraltro già in calo a doppia cifra, e la marginalità, rassicurando il mercato che tutto quello che non era riuscito a fare nel primo trimestre sarebbe stato recuperato nei trimestri successivi e a fine anno sarebbero stati centrati i target del piano industriale. Poi cosa è successo? Che a fine giugno, poi Stellantis mi sembra che abbia pubblicato il 25 di luglio del primo semestre, devi giocare a carte scoperte, per cui non puoi nasconderti e devi dare anche il dato sull'utile. Il dato sull'utile è stato, non me ne voglia la società, ma mi demito a riportarlo, disastroso, perché è calato del 48% a 5,6 miliardi. E comunque il calo sul fatturato è stato del 14%. Oltretutto, gli ultimi dati sulle vendite di nuove auto in Europa, soprattutto Francia e Italia, che dovrebbero essere due mercati più forti, perché non dimentichiamoci che Stellantis è principalmente FCA, Peugeot-Citroen. Quindi la cosa incredibile è che in Italia ormai la quota di mercato è scesa sotto il 25%, quando la sola FCA, gestione Marchionne, stava ben sopra il 30%. Quindi la situazione è difficile per tutto il settore auto europeo e probabilmente mondiale, però Stellantis sta facendo peggio del mercato da diverso tempo. Ti dicevo, perché non short? Perché ovviamente la possibilità che in quest'area di minimi il titolo provi a fare base c'è. Un long si può fare solo se vediamo questa possibilità come qualcosa di estremamente speculativo, cioè significa io penso che Stellantis possa rimbalzare, va bene, ne provo poche, voglio utilizzare, perché Miepe Paribas è la leader del mercato in Italia dei certificati, un certificato, lo dico subito, quello con la leva più bassa, perché il rischio di prendere lo stop è molto alto, lo stop che devo mettere su un investimento long su Stellantis, tassativo ci tengo a dirlo, è in caso di chiusura giornaliera inferiore ai minimi di periodo del 13 di agosto 13,692. Adesso il titolo è a 14,22, quindi lo stop è ragionevole, però attenzione, io compro per che cosa? Per provare a prendere un rimbalzo, un rimbalzo che può arrivare fino a 15,29,2 che è il massimo del 27 di agosto, perché i problemi ci sono ancora e il mercato, ovviamente in base a quello che ti ho detto prima, non crede che Stellantis possa rispettare il target del piano industriale e questo mi sembra piuttosto assodato ed è per questo che il titolo è stato così venduto. Scusa, ricordami il take profit? Il take profit in caso di rimbalzo può arrivare fino al massimo del 27 di agosto 15,29,2, però, ripeto, è un'operazione molto rischiosa, molto speculativa, da investitore aggressivo perché il rischio comunque di andare a prendere anche lo stop è abbastanza alto perché il mercato, queste configurazioni tecniche, nelle ultime sedute non le sta premiando, ce n'era una, faccio un esempio, visto che ho visto una domanda sul lusso, Ferragamo ieri ha fatto un nuovo minimo storico. È vero, lo ha sporcato, i volumi non sono stati incredibili, però Ferragamo era in una situazione graficamente simile a quella di Stellantis, con la differenza che quelli di Stellantis sono minimi di periodo, quelli di Ferragamo erano comunque, era un'area di minimi storici, però ieri ha rotto a ribasso. Quindi è per questo che raccomando, anche usando gli strumenti a leva, di usare una leva molto bassa perché il rischio di andare anche in stop su un'operazione come questa ovviamente esiste. Allora Andrea, finisce la puntata di oggi, finisce la settimana, ma chiediamo ai nostri spettatori e soprattutto quelli che seguono nello specifico TED di non disperare perché tra due settimane ci sarai di nuovo TED, quindi andremo a riprendere queste analisi. Se invece volete avere una qualche opinione oppure ci suggerite un qualche format, qualche domanda che possiamo fare da Andrea, potete scriverlo come sempre nei commenti. L'appuntamento quindi con Morning Trading Show è per lunedì, ci sarà nevia al lato nostro e tornerà, perché io sarò in vacanza, e tornerà invece Stefano Serafini per la parte, diciamo, quella interessante, quella più tecnica. Per cui auguro una buona giornata prima di tutti e da Andrea a tutti quanti che ci hanno seguiti in questa settimana e vi auguro un buon trading. Ciao Matteo, un caro saluto a tutti e ci vediamo tra due settimane. Tu sarai in vacanza da quello che ho capito, però ovviamente spero che il pubblico continui a seguirci come ha sempre fatto anche in questa settimana. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a tutti.